se volete essere grandi leader dovete imparare a seguire il tau smettete di stare in guardia lasciate perdere i piani prestabiliti e i concetti e il mondo si governerà da solo come posso sapere che è così lo so perché in questo mondo più si applicano proibizioni di vieti più la popolazione risulta impoverita più si costruiscono armi avanzate più la nazione piomba nel caos più i piani sono ingegnosi e sofisticati più i risultati sono imprevedibili più leggi vengono promulgate più azioni criminose si verificano perciò dice il saggio io non agisco e la gente si trasforma da se governo pacificamente la gente diventa onesta non interferisco la gente si arricchisce evito di imporre la mia volontà e la gente diventa se stessa vivere senza autoritarismo in questo e nei successivi capitoli del Tao Te Ching Lao Tzu consiglia ai governanti di 2500 anni fa su come e perché perseguire un alto livello di comando le sue parole possono benissimo applicarsi oggi nel ventunesimo secolo a tutte le forme di comando sia ai governi che al mondo degli affari che in particolar modo all'essere genitori il messaggio fondamentale del 57esimo capitolo è permettere invece che interferire ora non voglio dire di lasciare andare a carponi un bambino in mezzo al traffico o vicino al bordo di una piscina ovviamente bisogna essere assennati quando si vigila su coloro che potrebbero fare del male a se stessi e agli altri credo che Lao Tzu stia comunicando che permettere spesso è la forma più elevata di governo e gli afferma che nelle società con un numero eccessivo di restrizioni e proibizioni la popolazione risulta impoverita lo stesso può essere vero all'interno di famiglie in cui bisogna obbedire agli ordini senza fare domande più un sistema è autoritario più alto è il numero di fuori legge che ne risultano al contrario quanto i bambini vengono incoraggiati ad esplorare e a esercitare la loro curiosità sono ispirati a dare il meglio di loro stessi senza bisogno di ricorrere alle imposizioni perciò cambiando il modo di considerare la necessità di ricorrere alle regole i familiari renderanno tenderanno a prendere decisioni in base a ciò che è meglio per ciascuno piuttosto che sono per se stessi osservate che cosa succede per esempio quando abolite un rigido coprifuoco per i vostri figli adolescenti chiedendo loro di essere ragionevoli riguardo l'ora in cui rientrate a casa e di avviarvi e di avvisarvi se faranno più tardi del solito potreste scoprire che dal momento in cui non vi imponete su di loro finiscono per tornare a casa anche prima rispetto a quando c'era un coprifuoco a presiedere alla loro condotta analizzate le restrizioni che applicate in famiglia ricordate che dei genitori equilibrati non vogliono che i figli dipendano da loro vogliono che non sia necessaria la dipendenza dopo tutto volete che i vostri figli siano responsabili in salute che riescano nella vita e siano onesti non tanto perché voi siete lì a controllarli ma perché è nella loro natura perciò date l'esempio e fate loro capire che è possibile essere autosufficienti e ottenere splendidi risultati permette loro di imparare a fidarsi della loro natura più elevata invece che dover sfogliare un libro di regole per sapere cos'è giusto cambiare il modo di pensare ai decreti e alle leggi e alle proibizioni e considerate e consideratevi una persona che non ha bisogno di comandare col pugno di ferro poi dilettatevi ad applicare questo nuovo punto di vista sul vostro stile di comando ad ogni settore della vita in cui siete visto come il capo ciò che segue è un consiglio adottato nel ventunesimo secolo ma basato su questo capitolo scritto 25 secoli fa esercitatevi nell'arte di lasciarvi essere ciò che siete cominciate a permettervi di essere più spontanei e meno inquadrati nella vita quotidiana fate una gita senza programmarla prima andate dove l'istinto vi spinge ad andare dite alla parte di voi che è autoritaria di prendersi una pausa presentate a voi stessi e al mondo un lato diverso affermando sono libero di essere me stesso non devo vivere secondo le regole di qualcun altro e mi libero dalla necessità che siano le leggi a regolare il mio comportamento esercitatevi nell'arte di lasciare che gli altri siano ciò che sono coglietevi in fallo quando state per citare una regola per negare qualcosa a un bambino o a qualcuno vostro sottoposto al contrario riflettete sulle conseguenze di un vostro no e state semplicemente a guardare cambiando il modo di vedere il vostro ruolo di guida scoprirete che la gente ha bisogno di poche imposizioni per gestire la propria vita tutti possiedono un forte senso di ciò che desiderano fare dei limiti che hanno e di come realizzare i propri sogni siate come il tao lasciate che gli altri siano ciò che sono e rallegratevi di come il vostro atteggiamento non autoritario li ispira ad essere se stessi ora mettete in pratica il tao ritagliatevi del tempo per fare qualcosa che non avete mai fatto prima per esempio passeggiare a piedi nuti sotto la pioggia andare a lezioni di yoga parlare in pubblico fare una partita di touch football oppure lanciarsi col paracadute o qualsiasi altra cosa che abbiate sempre voluto fare ammettete di aver sempre imposto a voi stessi delle limitazioni che vi hanno trattenuto dal fare esperienze nuove e illuminanti e trovate il tempo di chiudere il vostro libro delle regole e di turfarvi in acque dove non siete mai stati prima inoltre ritagliatevi del tempo per dare a coloro di cui siete responsabili un'opportunità di fare lo stesso rallegrandovi per quanto riescono a fare senza il vostro intervento